Nel centro polifunzionale Leonardo, la cui costruzione risale all'anno 2009, è disponibile uno spazio commerciale di circa 1500 metri quadrati. Lo stabile è collocato in una posizione strategica di grande rilievo commerciale che lo rende visibile e facilmente individuabile. La ricercata struttura è sviluppata in un'area di circa 4500 metri quadrati, dislocata su due piani fuori terra ed uno interrato, ed è costituita da otto uffici, cinque negozi ed uno studio privato, oltre a locali deposito, posti autocoperti e posti auto esterni che circondano tutto l'edificio. Lo spazio commerciale in vendita è caratterizzato da ampie vetrate in alluminio e vetrocamera antispondamento su tutti i lati, che oltre alla sua collocazione ad angolo lo rendono visibile dai diversi ingressi viari. Il piano terra, di circa 1000 metri quadrati, presenta 10 ingressi pedonali posti lungo tutto il perimetro dell'edificio ed è facilmente frazionabile. È stato inoltre interamente controsoffittato con quadrotti ispezionabili che agevolano l'impiantistica e la cablatura, rendendo il contesto versatile in funzione delle varie esigenze. Al piano interrato, direttamente collegato al piano terra attraverso un'ampia scala in marmo, è presente un magazzino di circa 480 metri quadrati. Il magazzino è altresì raggiungibile da una rampa comune carraia con un portone adatto all'ingresso di autoveicoli. La pavimentazione è in piastrelle in ceramica al piano terra e lisciato di cemento nel locale al seminterrato. La destinazione urbanistica attuale è C1, negozi e botteghe, ideale per rivendita al dettaglio, agenzie bancarie o assicurative, concessionarie di autoveicoli, servizi alla persona, centri estetici, istituti di bellezza, palestre, eccetera. Ben si presta ad accogliere una molteplicità di attività nei vari settori merceologici. Grazie a tutti.